Per tutta una serie di motivi io mi prendo un minuto e trenta, anche se dalla legge già si stanno arrabbiando, non è il mio forte fare ringraziamenti, però è doveroso, visto che è l'ultima puntata e come non ringraziare. Intanto la famiglia di Videoregione, l'azienda di Videoregione che ci ha permesso di essere ancora una volta qui davanti alle telecamere e esprimere le nostre sensazioni, i nostri commenti e le nostre opinioni. Ovviamente il grande lavoro della Urban Media Agency con gli studi, con Pierpaolo Drogo che ci ha permesso anche lui dal punto di vista tecnico di essere sempre in onda, con tutto lo staff tecnico che non si vede, ora mi dimenticherò sicuramente qualcuno, Francesca, Serena, Antonio, Ernesto, Alessia, Giuseppe Torrisi, Peppe Torrisi che ogni volta combatte con noi. è davvero un grandissimo lavoro da parte di Peppe e poi soprattutto i tanti ospiti che hanno arricchito la nostra trasmissione a partire dal direttore Santo Palma, dall'avvocato Giuseppe Rapisarda, Sirio Silvestri, il mister Turi Di Stefano, insomma tutti sempre presenti e vogliosi di dire la loro e poi ovviamente quest'oggi intanto ringraziamo il mister Peppe Pagana che ci ha onorato la sua presenza nell'ultima puntata. Ti rivediamo in panchina quest'estate, ti rivediamo in panchina. Le scelte, le scelte, sicuramente però noi ci rivedremo. Noi li auguriamo. Noi ci rivedremo, quello sì, quello sì. Guarda questo tuo finale. Io ci tengo a dire una cosa, io sono venuto in questa occasione, altre volte mi avete chiamato, purtroppo per mille motivi io non sono potuto venire e mi dispiace che sono venuto proprio oggi. Sul più bello poi per ricominciare l'anno prossimo. E questo è il finale di Stefano Tere mi ha quasi commosso, immaginiamo se fossimo andati in Serie B, guarda. Chissà cosa sarebbe successo. Chiaramente non possiamo non ringraziare i capitani dei nostri ospiti, i grandi rappresentanti. Sempre presenti, sempre presenti. Entri di Stefano e Fabrizio Carbone, chiaramente. Sempre presenti, grazie ragazzi, grazie davvero per questo vostro contributo. Bravo Fabrizio. Bravo Entri. È stata una bella avventura, purtroppo non si è conclusa nel migliore dei modi, però come diciamo sempre, meglio ordecinere surdo. E quindi ci auguriamo che l'anno prossimo possa andare meglio e quindi grazie per l'opportunità e speriamo di avervi tenuto compagnia, Entri, in maniera piacevole con gli amici da casa. Sempre Forza Catania, Fabrizio, ovviamente. Sempre, sempre. La matricola ricordiamo sempre, ogni puntata. Siamo in chiusura, dobbiamo stringere, basta con le chiacchiere, se no poi commozione. Cosa vale? Grazie Fabrizio. Grazie a voi. L'anno prossimo saremo sempre assieme. Ragazzi, che dire, noi ogni giorno ci vediamo. Assolutamente. Una sofferenza quotidiana. Ma ci possiamo ringraziare lo stesso tra di noi. Certo, grazie ragazzi, grazie a tutta la relazione di Catanissa con Marco Massimino Cocuzza, Antonio Torrisi, Ruggero Tracuzzi, Clelia. Grazie mille, figura femminile che è stata criticata costantemente per il suo avvigliamento dalla mattina alla sera, immotivatamente, ma ci divertiamo con lei. Dal mio amato direttore Attilio Scuderi, chiaramente ringraziamo prima di tutto lui. Grazie mille, Attilio, perché senza comunque la gestione, la guida del nostro direttore Attilio Scuderi, non ci sarebbe niente, non ci sarebbe Catanissa, non ci sarebbe un lavoro che va avanti da 12 anni, quindi l'ultimo, ma perché il primo ad essere ringraziato, il nostro direttore Attilio Scuderi. Non è l'ultimo, l'ultimo è Stefano Uteri. No, ma io... Ringraziamo Stefano Uteri, chiaramente. Ma io ero qua di passaggio, ragazzi, mi è capitato per 16 mesi di stare qua di passaggio, ma non c'entro niente. Grazie mille, grazie Clelia Filetti, grazie della tua presenza. Grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito, chiaramente. E ovviamente l'appuntamento è rimandato al prossimo anno, speriamo con minor sofferenza, speriamo con qualche soddisfazione in più, ma noi tanto saremo sempre qui a raccontarvelo. E ovviamente il radio ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21 su Radio Fantastica. I partner, mi stavo scordando i partner, grazie a tutti i partner, grazie a tutti, alla prossima. Buonanotte. Grazie. Grazie.